Si terranno domani mattina alle 11 presso la chiesa dell'assunta Silvi i funerali di Mario De Stacchio, il 63enne travolto e ucciso da una piccola motopesca sabato a largo della torre di Ciorrano. Chiarita dunque la causa della morte di De Stacchio, grazie alle risultanze dell'esame autoptico effettuato ieri dal medico legale Giuseppe Sciarra, fa tale il contatto con l'elica di una piccola imbarcazione che ha centrato il capo del povero De Stacchio. Escluso dunque l'annegamento e il malore, è confermata dunque a questo punto da parte della procura di Teramo l'ipotesi di omicidio colposo. Posta sotto sequestro la piccola imbarcazione del pescatore che ha notato il corpo di De Stacchio a pelo d'acqua e ha lanciato l'allarme, questo per consentire una perizia tecnica sul motore dell'unità al fine di individuare eventuali compatibilità tra la ferita e l'elica. Questo non vuol dire che sia stata quella imbarcazione a travolgere il De Stacchio, fanno sapere gli inquirenti, ma al momento è l'unico mezzo presente con certezza sulla scena della tragedia. Intanto, in tarda mattinata, la salma di Mario a De Stacchio, raggiunto dall'ospedale Mazzini di Teramo la camera ardente di Pianaccio, in via Maestri del Lavoro a Silvi, dove resterà fino a domani mattina, poco prima del rito funebre delle 11, alla chiesa dell'Assunta.